Lo staff della Plaza Iscla augura buone feste e un felice 2018. In montagna c'è voglia di sci. Lo confermano i numeri fatti registrare questo fine settimana sulle piste dei comprensori valtellinesi, ufficialmente aperti dallo scorso weekend dell'Ivigno Madesimo. A fare alla parte del leone è proprio il piccolo Tibet, che fra sabato e domenica ha contato ben 4.600 ingressi alle sciovie. Avvio positivo anche per la stazione di Bormio. Nonostante sia aperta soltanto la parte alta della schiaria, gli sciatori saliti in quota nel weekend sono stati 3.500. A breve sarà comunque ultimata anche la pista a Silvio, teatro il 28 e 29 dicembre, nelle due prove di Coppa del Mondo di sci alpino. La neve naturale è scarseggio, ma la società Impianti Bormio sta approfittando delle basse temperature per preparare quella artificiale necessaria per allestire al meglio l'evento mondiale. Soddisfatti anche gli operatori dei comprensori di Valmalenco e Madesimo. Riscontri positivi anche in Abrica, dove gli sciatori hanno la possibilità di acquistare lo ski pass che permette l'accesso anche al vicino comprensorio della Damello Ski Ponte di Legno, già aperto da fine novembre. A Lanzada i cannoni di sparaneve stanno lavorando a pieno regime per allestire la pista da fondo in località Pradash. L'obiettivo è di realizzare per l'Immacolata un enello illuminato di almeno 500 metri. La neve è stata sparata completamente, dichiara il sindaco Marco Negrini. Ieri sera è stata spalmata sulla pista e se le temperature lo consentono, forse potremo aprire anche giovedì. Grazie ad un accordo con la Polisportiva Valmalenco, l'accesso alla pista sarà consentito anche nelle ore serali, dalle 17 alle 23, per permettere a chiunque di usufruire della pista. L'ingresso è gratuito. Per l'8 dicembre si prepara ad aprire i battenti anche il tracciato nordico viola in Val di Dentro. E in occasione del Ponte dell'Immacolata non si parla solo di sci. Uno degli appuntamenti da non perdere è la Christmas Run, in programma l'8 dicembre a Morvegno. La tradizionale corsa di Babbo Natale a cura dell'associazione Joy Valtellina consentirà di raccogliere fondi a favore dei progetti solidali del gruppo. Nel vicino polo filistico, già dalla mattinata, sarà possibile visitare il villaggio di Christmas Heart, mentre a Lanzada saranno inaugurati i tipici mercatini natalizi. Spostandoci in Altavalle, Bormio accoglierà i turisti con la manifestazione Gira Bormio, un tour per le vie del centro storico in cui poter assistere a concerti e spettacoli gustando le prelibatezze del territorio. Ma per chi ha intenzione di rimanere in città, niente paura. La soluzione è divertirsi sul ghiaccio. In piazza Garibaldi, nel capoluogo, è stata inaugurata la pista di patinaggio. Un'etapa irrinunciabile per tutti i sondriesi. È un'opportunità che deve essere assolutamente per tutti, dunque per divertirsi, per avere un'occasione per cimentarsi con un nuovo sport, per trascorrere alcune ore in compagnia in allegria. E l'importante è che non ci siano gesti di prepotenza, che non ci siano gesti di prevaricazione. E questo, secondo me, può essere anche utile per l'educazione sportiva dei nostri ragazzi. Grazie. 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 Grazie.